allora carissimi benvenuti o bentornati per questa diretta un po difficile questa sera è disturbata da vari da varie complicazioni va bene comunque non ci scoraggiamo vi ringrazio anche per l'aiuto per la pazienza e adesso cominciamo di nuovo a scorrere le domande ecco uno abbiamo un paio le abbiamo già viste nella precedente nel precedente tentativo adesso scorro un attimo giamma laurenti buonasera donardo grazie per l'utilizzo di oggi su tele ma questa è un po una una considerazione personale utilizziamo insomma io ho un canale diciamo così telegram per alcuni amici a cui si può chiedere di aderire basta mandare un messaggio con la richiesta del link e si oggi ho fatto un altro messaggio su sui podcast perché pochi conoscono la l'estrema utilità di questi strumenti e sulle piattaforme di google e anche di itunes che hanno un tanto una serie di servizi che specialmente quando uno ascolta omelie catechesi o preghiere c'è un tanto una serie di funzioni come per esempio l'aggiornamento automatico degli episodi la possibilità di variare la velocità di esecuzione di un mp3 di rallentarlo o di velocizzarlo e che sono molto molto utili ecco io li uso li uso molto insomma e ho fatto in modo che il mio materiale andasse anche su quelle piattaforme proprio per semplificare la vita di chi vuole avere un uso diciamo così più più agevole perché vedere un video su youtube uno deve stare generalmente davanti al computer e l'esecuzione degli mp3 dai siti web compreso il mio può essere un pochino problematica perché le pagine sono abbastanza pesanti e poi comunque è un'esecuzione in streaming certo uno può fare il download del mp3 però comunque deve avere un dispositivo eccetera nelle piattaforme di podcast è molto molto più semplice il tutto insomma quindi io consiglio di scaricare per chi ha android google podcast e per chi ha itunes l'applicazione podcast per itunes per chi ha iphone o ipad perché sono molto 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 utili non soltanto per le cose mie ci sono tantissimi podcast in giro e l'uso di queste piattaforme è davvero utile adesso vediamo se arriva una domanda sulla divina volontà marisa fantini chiede mi piacerebbe sentire qualcosa sulla memoria con la m maiuscola la sua memoria presume in quanto facoltà spirituale se dovesse essere alto per lo specifici la memoria è una delle tre facoltà spirituali per noi esseri umani anche se questa facoltà è condivisa anche se un grade evidentemente inferiore nel senso che gli animali hanno la cosiddetta memoria sensitiva e ne facciamo esperienza no cioè gli animali hanno la capacità di ricordare alcune cose no è sulla base della memoria associativa per esempio che sapete no nel circo si vede che il cavallo conta e dice quanto fa 3 più 4 quello sbatte per sette volte con la zampa per terra in realtà lui non è che sa contare ma ha associato tutta quanto una serie di ricordi visivi o uditivi olfattivi o anche inerenti alle papille gustative insomma noi domatori per far imparare qualcosa agli animali li premiano li gratificano anche il motivo per cui un cavallo si doma un canne si addestra no e i gatti insomma ricordano bene le cose che piace ricordarsi soprattutto le case dove dove si trovano bene insomma no o le persone che li trattano bene eccetera invece noi esseri umane abbiamo una memoria superiore nel senso che noi abbiamo la capacità di ricordare di ricordare i concetti di ricordare le elaborazioni intellettuali di ricordare le scelte che abbiamo fatto insomma di ricordare le grazie che abbiamo ricevuto dal dal signore questa facoltà è importantissima ed è importante per noi che la teniamo anche esercitata la memoria va tenuta possibilmente viva ed esercitata perché purtroppo la memoria e nello stato di natura decaduta come noi stiamo adesso risente di tutta quanto una serie di menomazioni derivanti appunto dal nostro stato di natura decaduta io purtroppo anche c'è una memoria come dono di natura abbastanza di acciaio però su alcune cose vedo che su certe no ma su altre essendo poi la mia vita abbastanza abbastanza ricca e di tante cose vedo che ogni tanto comincia a tradirmi un po' quindi è fondamentale tenerla tenerla viva e tenerla esercitata no questo lo sa anche lo sapeva anche bene il popolo di israele che ha elaborato la teologia del memoriale sia attraverso quei salmi che narrano le opere compiute da dio nella storia della salvezza no ma anche attraverso la liturgia anche noi abbiamo il concetto di memoriale no perché la liturgia è anche un ricordare non è solo ricordare ricordare evidentemente che attualizza l'evento salvifico qui ed ora quindi non è semplicemente questo concetto protestante no un ricordo di una cosa passata ma è un attualizzare un'azione salvifica che dio ha compiuto anche quando si proclama la parola nella liturgia non è semplicemente un leggere una cosa che è stata scritta duemila anni fa ma è un attualizzare la voce parlante di dio che parla qui e ora nella liturgia al suo popolo quindi questo è quello che posso dire poi se marisa fantini faceva riferimento a qualcosa di più specifico può certamente articolare ulteriormente la sua domanda alessia di berardino scrive buonasera don volontà è giusto lecito chiedere qualcosa che ci sta a cuore nella preghiera certamente alessia cioè la nostra preghiera noi dobbiamo sempre pensare che la divina volontà non è qualche cosa che ci come dire che ci ingabbia d'accordo che ci che ci mutila insomma che ci è chiaro che tante cose pian pianino vengono interiorizzate noi possiamo certamente chiedere tante cose al signore possiamo portargli le nostre intenzioni possiamo portargli i nostri desideri io sono una montagna di persone che mi chiedono di 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 pregare per loro no è chiaro che mano mano che si matura in questa in questa vita cioè io amo sempre dire a me stesso anche oltre che a tutti che la divina volontà lo dice anche gesù negli scritti è un cammino come tutte quante le cose di questo mondo quindi è un mondo in cui ci si comincia diciamo così a muovere e poi ci si addentra sempre di più allora noi possiamo chiedere tante cose però anzitutto già questo nella vita cristiana normale sant'agostino diceva bene che il signore ci ha detto quali sono le cose importanti ed essenziali da chiedere a lui che sono quelle che gli chiediamo nel padre nostro d'accordo sant'agostino diceva noi possiamo anche chiedere esprimerci a dio usando altre parole d'accordo ma dobbiamo fare sempre attenzione di chiedergli le stesse cose non cose diverse dal padre nostro possiamo poter chiedere nel padre nostro e fai morire un mio nemico d'accordo perché questa cosa non è una cosa ecco una persona che mi ha fatto del male io posso chiedere al signore aiutami a perdonarla d'accordo e fa che si converta cioè rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e sia santificato il tuo nome cioè sia santificato il tuo nome e non solo in me che diventi santo io ma che diventi santo anche una persona che magari mi ha fatto del male che si converta quindi non posso chiedere fallo morire insomma oppure fagli venire qualche malattia o qualche accidente quindi le cose diciamo buone si possono sempre chiedere al signore è chiaro che come dice san paolo tu alessia sei sicura scusa se ti do del tu insomma in questo in questo diciamo non multimediale ci diamo del tu no siamo sicuri che quello che io chiedo al signore è la cosa migliore punto interrogativo anche dinanzi a cose che sembrano buone no una malattia io qualche giorno fa come dire è ricorso l'anniversario tutti quelli che mi conoscono perché ho reso pubblico questa testimonianza della morte del mio carissimo amico francesco ormai venuta tantissimi anni fa no è chiaro che quando francesco stava male tutti chiedevamo che guarisse ma come mi disse francesco poco prima di morire lo disse anzi alla madre davanti a me riporto una questo ovviamente l'ho detto durante la testimonianza di se dice sai ma come vedi mi è venuta sta malattia c'è stato un periodo in cui stavo meglio perché gli ho chiesto a gesù che mi guarisse erano parole sue e a un certo punto ho pure pensato che mi avesse guarito ma come vedi non mi ha guarito e gesù non mi guarisce dobbiamo però fare la sua volontà sia io che tu io sono pronto si pronta anche tu e ricordati che c'è un altro figlio ha detto bene perché dopo poco francesco è partito nonostante il trapianto del mirollo dio non lo voleva guarire perché guarire non era per lui la cosa migliore nel libro della sua vita c'era scritto che sarebbe campato sul pianeta terra 23 anni che sarebbe partito da questo mondo il giorno in cui compiva il ventitresimo anno della sua vita terrena e questo era bene per lui per la sua famiglia per me per padre fabio e per un montagna di altra gente io mi ricordo tutto quello che successe ai tempi della mattina di francesco veramente mobilitazione generale di gente che ha dato una sangue gente che non metteva piede in chiesa da da vent'anni che andava in chiesa a pregazzo è successo di tutto attraverso questa cosa no ma francesco detto fra me e voi è andato molto meglio così io adesso non vorrei sembrare è che probabilmente non sarei stato capace di soffrire come lui non sarei stato bravo come lui ma magari ce l'ho stato io al posto suo spero che si capisca insomma il senso cioè francesco sta bene adesso non è che sta bene sta benissimo cioè noi nel paradiso ci ci crediamo quindi quando chiediamo a dio qualche cosa di di materiale o di temporale possiamo chiederglielo ma noi non sappiamo se quella è la cosa migliore perché anche gli eventi che a noi ci sembrano catastrofici orribili e diciamo da fuggire il più possibile non so perdere il lavoro perdere un affetto perdere una persona cara non avere una malattia ci sto parlando di cose abbastanza serie è comprensibile che non le vediamo così ma piano piano nella divina volontà si comincia a maturare ma sono proprio sicuro che togliermi questa sofferenza chiedere che mi sia allontanato sia la cosa che dio vuole per me o forse dio sta permettendo il contrario perché è bene per me ecco quindi questo certamente è una cosa che se si cammina autenticamente in questo mondo è piano piano comincia a nascere d'accordo quindi non si pone più per neanche il problema è giusto o lecito chiedere qualcosa sì ma io già quando faccio una domanda al signore ho il cuore sempre ben aperto cioè se signore mio se questa non fosse la tua volontà se fosse una cosa buona vai tranquillo e fai altro d'accordo perché io non ho nessun dubbio che la tua volontà è il meglio per me e per tutti ecco spero di essere stato esaustivo francesca re david chi vive nella divina volontà diventa corredentore con gesù e maria chi non è battezzato non può essere corredentore allora questo termine bisogna assoluto chiarire un pochino il termine la redenzione è stata operata da gesù 1 la corredenzione di maria ossia la sua cooperazione alla redenzione è per coloro che sostengono che la madonna sia corredentrice che è una verità di fede tuttora non definita per cui è lecito in campo cattolico per ora tenere per la corredenzione oppure tenere per la non corredenzione mariana chi tiene per la corredenzione mariana sostiene io personalmente tengo per la corredenzione mariana che la madonna con gesù semplicemente per una disposizione della divina volontà non perché fosse necessario d'accordo perché necessaria era solo la redenzione operata da nostro signore gesù cristo d'accordo ma dal momento che la divina volontà ha stabilito che l'opera della redenzione sia un rovesciamento della caduta del genere umano e anche se l'attore principale fu adamo perché perché a caso di adamo che l'umanità è decaduta anche se la molla è stata eva quindi a fianco al redentore evidentemente assolutamente principale e indispensabile che il nostro signore gesù cristo è stata messa la madonna come corredentrice ma dire questo significa che la madonna ha cooperato con gesù alla riconciliazione dell'umanità con dio e al riacquisto della grazia opera che poteva fare soltanto lei e ha fatto questo unendosi in tutta la sua vita terrena alle sofferenze di gesù ma soprattutto sotto la croce offrendo il sacrificio del suo amatissimo figlio al padre quindi la sua morte mistica in un solo sacrificio con quello di gesù quindi e offendo la sua morte spirituale ora san paolo dice nelle sue lettere che chi evidentemente battezzato quindi rispondiamo subito a questa domanda completa nella sua carne ciò che manca alle sofferenze di cristo fuori del suo corpo che era chiesa allora parlare di corredenzione per le persone diverse da gesù e maria per le persone diverse dalla madonna ci si può parlare ma in una maniera molto molto analogica molto molto ampia d'accordo perché certamente tutti quanti noi collaboriamo con gesù come con la nostra preghiera con i nostri sacrifici con la nostra accoglienza delle croci ma la nostra cooperazione si si da su un piano differente perché la redenzione starà già compiuta da gesù e da maria quindi l'umanità è già riconciliata con dio e la grazia è stata già messa a disposizione di tutti quanti gli esseri umani bisogna soltanto andarla a prendere ora il nostro apporto a ciò che hanno fatto gesù e maria quindi ciò che è agevolato dalla mia e dalla tua preghiera dalla mia e dalla tua mortificazione dalle mie e dalle tue penitenze sacrifici eccetera è la distribuzione della grazia come si dice in teologia cioè quella grazia che Gesù e Maria hanno acquistato per ogni uomo di ogni tempo deve arrivare a tutti gli uomini di ogni luogo di ogni tempo non ce l'hanno quindi una persona deve andarsi a confessare deve chiedere il battesimo deve andare a messa per fare la comunione ecco qui interviene il nostro apporto è per questo che la Madonna chiede in continuazione pregate fate sacrifici pregate fate sacrifici perché la gente va all'inferno disse a Fatima perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro che significa che hanno una montagna di grazia a disposizione che è quella che lei e suo figlio già hanno procurato all'umanità ma non la vanno a prendere e se qualcuno pregasse e si sacrificasse per loro si convertirebbero la andrebbe a prendere ora è chiaro che chi viene nella divina volontà come dire fa questa funzione all'ennesimo potenza perché le sue preghiere i suoi sacrifici hanno un valore quando sono uniti alla divina volontà davanti a Dio molto più grande della preghiera e di un sacrificio fatta da chi non porta questo atto nella volontà divina quindi non solo che si può ma certamente è cosa che si fa nel modo tuttavia in cui ho spiegato ecco perché la nostra cooperazione alle opere redentive di Gesù e subordinatamente a quelle sue e a quelle di Maria sono sul piano dell'applicazione questo non vuol dire che non siano importanti però sono su questo secondo livello spero di essere stato chiaro questi sono concetti teologici purtroppo abbastanza abbastanza elevati quindi però la domanda era quella quindi ho dovuto rispondere alla domanda Desiree dice mi è capitato di sognare Gesù quando ero ragazza non l'ho visto ho sentito la sua voce bellissima mi ha dato un messaggio è possibile che mi abbia accettato nella divina volontà eh Desiree ecco il Dio allora figlia cara io sono soltanto un povero prete d'accordo quindi non non ho la capacità di rispondere a questa domanda e perché non la conosco e e anche se la conoscessi quindi parte che bisognerebbe verificare bene questa cosa che lei ha vissuto no perché noi abbiamo le cose che noi abbiamo vissuto possiamo certamente custodircele nel cuore possiamo provare noi a farci un prego riscernimento quando si tratta di cose come dire eminentemente private purché rimaniamo sempre saldi e con i piedi ben ancorati per terra nel senso che bisogna sapere che di cose di questo genere quindi di carezze e di chicche personali Gesù e la Madonna ne danno una montagna è un sacco di gente io ve lo assicuro insomma quindi non bisogna certamente essere troppo inclini a pensare di averli avuti però possono succedere d'accordo quindi quando si tratta come dire di una cosa personale come dire si può anche maturare diciamo così una convinzione intima che possa essere vera oppure l'importante è rimanere sempre ripeto con i piedi per terra nell'umiltà non pensare che se ho ricevuto questa cosa sono chissà quale grande santo cose di questo genere quindi come dire allontanare tutte quante le possibili come dire controindicazioni che potrebbero ingenerarsi dal pensare di essere destinatario di un favore soprannaturale ecco se si vuole un discernimento come dire più approfondito e certamente bisognerà parlarne con un sacerdote facendo però in modo di descrivere bene quello che è successo e anche di farsi conoscere un po' ecco perché la valutazione della possibile attendibilità di un qualcosa dipende da tutta una serie di fattori di cui il sacerdote deve venire a conoscenza io non potrei darle un parere tramite messaggio instagram né tanto meno cioè nella divina volontà non è che cioè nella divina volontà Gesù sta attendendo che ci vada a vivere chiunque lo voglia fare insomma non ci sono porte chiuse anzi le sue porte sono spalancate nei confronti di tutti bisogna però vedere come lo dice negli scritti se una persona realmente è disposta a viverci e non è soltanto come dire un fuoco di paglia o una velleità ecco perché non è semplicemente u che bello voglio stare qui certo ci vuole una volontà ferma e risoluta e ci vuole poi come dire una messa in campo profonda di tutto quello che è il nostro essere il nostro interiore per iniziare questo cammino che porta alla distruzione della nostra volontà umana quindi non alla distruzione della nostra facoltà perché la nostra volontà è una cosa meravigliosa ma è un esercizio della volontà volto ad aderire sempre più e sempre meglio in tutto alla volontà divina e quindi spero di essermi un pochino spiegato Anna Pandolfi 92 gli atti di fusione basta farli con l'umanità di Gesù ho tutta la fusione tipo i giri eccetera eccetera allora gli atti di fusione Anna qui abbiamo fatto un ciclo di di catechesi abbastanza lungo e articolato si chiama Fondersi nella Divina Volontà dove grazie a un tentativo di Don Pablo Martin che ha appunto composto questo testo Fondersi nella Divina Volontà siamo andati un pochino a vedere questo atto questo atto importante come tutti quanti gli atti rimane sempre profondamente misterioso perché senza come dire una input soprannaturale noi non comprendiamo non viviamo ecco come in certe circostanze Gesù faceva vedere a Luisa la straordinarietà e quindi tutta quanta la portata di questo gesto gli atti di fusione si possono fare in tantissimi modi come da questo ciclo di catechesi si evince no? quindi c'è un atto di fusione scritto e articolato bello ci sono gli atti di fusione anche istantanei cioè io posso desiderare prima di compiere un atto di fondermi con la Divina Volontà perché non sia io a farlo ma sia veramente Gesù a farlo in noi questa è una cosa che dobbiamo sperare certamente non dobbiamo presumere ne possiamo esserne certi o sicuri al 100% però possiamo e dobbiamo sperarla e quindi in questo caso si fa in maniera molto molto più semplice possiamo andare a cercare i modi di fondersi nella Divina Volontà certamente attraverso la preghiera dei giri cioè andando a raccogliere le opere della Divina Volontà e mettendo tutti quanti i nostri ti amo in esse anche queste sono delle modalità di diffusione con quel ciclo di Catechesi ci sono varie perché sono vari scritti che parlano delle modalità con cui Luisa si fondeva nella Divina Volontà e si possono trovare un pochino tutte quante le 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 forme no i giri nella creazione i giri nella retenzione sono tutte quante possibili forme dopo andare a cercare delle modalità per fondersi nella Divina Volontà ti e fi per vivere nella Divina Volontà con una continua attenzione oltre alla ripetizione degli atti c'è altro che si possa fare per mantenerla ed aumentarla allora carissima carissima o carissima adesso non so se fie fie non si capisce dal nome no l'attenzione certamente è importante perché possiamo moltiplicare gli atti prenderli è sempre un'attenzione io amo dire un'attenzione tranquilla nel senso non possiamo stare con con l'ansia con la tensione no piano piano a certe cose ci si abitua almeno questa è una cosa che io posso raccontare la mia testimonianza la mia esperienza insomma no cioè anche nella Divina Volontà valgono come dire le regole che valgono per vizi e virtù cioè se tu tutte le mattine fai l'atto preventivo ti abituerai a farlo se tu hai un momento della giornata dove fai la tua diffusione ti aiuterai a farlo no se chi comincia a chiamare la Divina Volontà almeno negli atti principali ti verrà abbastanza facile farlo no se cerchi di andare a prendere la Divina Volontà quando mangi prima di dormire quando ti lavi cioè in una serie di atti principali poi ti verrà abbastanza facile farlo l'attenzione importante è e questa però è una ginnastica continua no a cercare di cogliere nel momento presente quella che sia la Divina Volontà a mezzo delle piccolissime cose no perché non si tratta soltanto di fare gli atti ma si tratta anche di imparare in ogni istante a fare quello che Dio vuole d'accordo non quello che voglio dire per esempio prima guardate no è partita la diretta c'erano delle difficoltà che cosa è questa difficoltà forse Dio non vuole che stasera si faccia la la diretta vediamo subito cambiamo dispositivo se andava male pure con questo dicevo ragazzi chiudiamo e ci vediamo la settimana prossima con quest'altro è andato bene allora ho capito che era un'azione disturbatrice e che abbiamo provato a superare l'abbiamo superata capite no dinanzi al fatto del genere che cosa mi sta chiedendo nostro signore taglio subito dico vabbè lasciamo perdere oppure facciamo un altro tentativo facciamo un altro tentativo vediamo come va se va male che è stato tentativo chiudiamo d'accordo ecco questa è una stupidaggine proprio perché molti di quelli che stanno seguendo ne sono stati testimoni ma è una stupidaggia entro certi limiti d'accordo perché stare qui a fare questa trasmissione per me e anche per voi che l'ascoltate Dio lo vuole o Dio non lo vuole questa cosa non è una cosa indifferente d'accordo ecco quindi se Dio lo vuole va bene certamente non possiamo mai avere la certezza al 100% che quello che sto facendo Dio lo voglia però possiamo avere una certezza morale come dire o quantomeno una ragionevole come dire presunzione che quello che stiamo facendo sia volontà divina ecco queste sono attitudini che si acquisiscono piano piano cioè la cosa fondamentale è quello che Dio vede nel cuore se una persona vuole veramente vivere in questo mondo quindi cioè non si tratta di inventarsi chi lo sa cioè certamente uno si può può fare tantissime scogitare tantissimi stratagemmi no però la cosa fondamentale è imparare a cercare sempre più e sempre meglio di starci dentro viverci dentro cioè se uno ascolta un pochino le catechesi no per esempio la raffinazione della nostra coscienza chiederti quando tu stai facendo un'azione perché la sto facendo per chi la sto facendo no questa è una cosa fondamentalissima per vivere nella 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 divina volontà no l'attenzione ai nostri pensieri è una cosa a chi pensi tu a che pensi a chi pensi d'accordo perché dove il nostro tesoro lì è anche il tuo cuore quanto ci pensi a Gesù e alla Madonna durante la giornata quanto pensi a altre cose o a altre persone capito quindi è tutto un un mondo che si che si attiva non è come dire per questo che io dico sempre cioè si deve si devono aprire dei dei vasti campi di azione di attenzione in cui piano piano cominciamo a muoverci orizzontarci eccetera no buonasera non ho molto chiaro spero di risposto alla domanda precedente buonasera non ho molto chiaro il concetto di rifare gli atti nella divina volontà posso rifarli anche per i miei familiari grazie allora allora Kina per quanto per quanto io ho compreso la situazione sta così ci sono come dire due ambiti Gesù gli atti suoi e gli atti miei li ha rifatti tutti tutti già la madonna gli atti miei gli atti suoi li ha già rifatti tutti luisa gli atti miei gli atti suoi li ha già rifatti tutti io se faccio un giro nella divina volontà per esempio sto celebrando la messa e voglio dire al signore guarda signora mia in questo osse che sto tenendo in mano ci metto il mio ti amo nella divina volontà che significa significa che estendo questo ti amo a tutte le messe che sono state celebrate che saranno celebrate e porto come dire tutti i miei confrateri sacerdoti ora nella divina volontà a dire loro ti amo e se loro non lo dicono lo dico io per loro a questo osse che tengo sulle mani d'accordo è chiaro che io come dire ho rifatto tante situazioni tuttavia se ci fosse Dio non voglia ma forse uno in tutta la storia ci sarà un sacerdote che durante una messa ha celebrato una messa sacrilega anche se io ho rifatto quell'atto quella messa sacrilega rimane d'accordo che cosa voglio dire con questo che non serve no che come dice Gesù tutte queste operazioni che noi compiamo a favore degli altri attirano delle grazie sugli altri cioè se i suoi familiari per esempio sono lontani da Dio non si confessano da 40 anni è chiaro che lei può rifare i loro atti perché nella divina volontà noi raggiungiamo tutti quanti il problema è che quest'operazione bisogna sperare che serva a accelerare la loro conversione in modo tale che si confessino bene e poi imparino anche loro a rifare gli atti della loro esistenza e facciano dopo la confessione quel bellissimo esercizio che è rifare tutti quanti cioè sono loro che devono andarsi a prendere personalmente gli atti che Gesù ha fatto per loro che la Madonna ha fatto per loro e farli propri spero di essere stato chiaro cioè ci sono delle operazioni che noi facciamo a beneficio di tutti d'accordo e che nella divina volontà sono altamente produttive di beni ma ricordiamo sempre che la persona e la libertà personale sono sempre intatte d'accordo per cui non esistono d'accordo questo c'è il fatto che Gesù sia morto per tutti non significa che non ci siano anime dannate se ci sono anime dannate con la morte di Gesù capiamo bene Gesù ha agito e fatto tutto nella divina volontà d'accordo quindi spero di essere stato chiaro perché ci sono alcuni passaggi in cui bisogna essere abbastanza chiari e precisi poi se non lo sono stato magari fate una nota dice l'orancio ha capito niente d'accordo ecco fatemi un attimo mandatemi qualche feedback perché altrimenti diventa poi un pochino più più complicato no allora Blasi Arianna nei primi volumi Gesù a Luisa spiega le tre potenze intelletto eccetera non ritrovo la catechesi non mi è molto chiaro le tre potenze Arianna ne ho già parlato un pochino prima quando quella figliola ha fatto la domanda sulla memoria in accordo le tre potenze sono le tre potenze spirituali si chiamano potenze o facoltà spirituali e sul termine potenza è un termine metafisico d'accordo quindi che presuppone la conoscenza della metafisica aristotelica e i concetti di potenza e atto adesso non vorrei insomma fare le cose troppo troppo difficili in una diretta insomma di instagram no comunque sono l'intelletto la memoria e la volontà che sono quelle facoltà o potenze spirituali che fanno di noi delle immagini e somiglianze di Dio perché queste stesse cose si ritrovano anche in Dio non come potenze d'accordo perché è tutto quanto atto puro quindi però Dio è intelligentissimo Dio la divina volontà sappiamo bene quello che è e Dio non soltanto ricorda tutto ma Dio in atto come dire nella sua infinita diciamo capacità recettiva contiene tutto ecco spero ecco di essere stato anche qui sinteticamente chiaro questo dispositivo nuovo è abbastanza come dire ok un'altra domanda di Fie Fiechi per gusti citati non è scritta di Luisi sono tutte le reazioni emotive o altro allora i gusti quali gusti cioè i gusti della persona o i gusti e i diletti che si provano vivendo nella divina volontà allora a che cosa fa riferimento perché per esempio c'è un passaggio in cui Gesù quando spiega come dire il valore anche della mortificazione della benitenza dice non c'è nessun gusto anche minimo che l'anima di cui l'anima non si prive per amore mio che non riceverà in cambio dei gusti e dei diletti straordinari insomma per gusto si intende tutto ciò che alletta la nostra persona può essere un gusto sensibile può essere un gusto emotivo o può essere un gusto spirituale quindi bisogna vedere però il contesto in cui se ne parla Chiara Leonilde chiede nella fusione mi parebbe più semplice pensare che Gesù e Maria siano in me invece che io in loro è normale o in seguito capiterà anche questo allora Chiara carissima noi non non possiamo come dire sapere esattamente queste cose no quindi almeno io non non sono esattamente in grado da due si diventa uno d'accordo quindi quella che è la mia povera umanità d'accordo si fonde diventa una ecco con le umanità santissime di Gesù e di Maria che sono a loro volta une con la volontà divina quindi evidentemente questa in questo mondo è un'operazione eminentemente spirituale che come dire andarla ad approfondire troppo diventa un pochino complicato perché se fosse stato il caso di approfondirla in questi termini così tanto negli iscritti si sarebbe trovato qualcosa io adesso non ho memoria ecco di però insomma sono tanti gli iscritti la seconda lettura meditata è arrivata al diciassettesimo volume la prima lettura sta al trentaquattresimo insomma quindi degli altri quindi la cosa importante è compiere questi atti anche perché di molti degli effetti noi non ce ne rendiamo conto però ripeto la cosa di cui ci potremo sempre rendere conto è lo stato d'animo globale in cui noi siamo perché nella divina volontà tutta quanto una serie di stati d'animo molto negativi moderatamente negativi negativi o molto negativi li nomino adesso dal turbamento dal senso di fastidio la noia la depressione l'angoscia l'ansia la disperazione l'inquietudine lo stare sempre agitati ecco la preoccupazione continua ecco tutte queste cose che sono tutte figlie della volontà umana tutte d'accordo vanno scemando vanno diminuendo fino a scomparire perché la divina volontà non è compatibile con queste cose d'accordo io tante volte anche durante i mesi scorsi quando è cominciata a venire questa 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 pandemia no tutti quanti noi adesso possiamo fare un esame di coscienza anche i figli della divina volontà come abbiamo vissuto questo tempo con tutto quello che ha comportato stare carcerati dentro casa stare privi dei sacramenti rischiare di essere contagiati insomma o che qualche persona cara fosse contagiata come ho vissuto tutto questo da come ho vissuto io posso già come dire rendermi conto quanto sto nella divina volontà o quanto no spero di essere anche qui stato chiaro allora pala 46 71 chi prega nella divina volontà è necessario pregare per un'amica in particolare che sta male oppure non ce n'è bisogno perché nella divina volontà si prega già per tutte le creature allora questo in parte l'abbiamo già detto prima no cioè la preghiera rimane comunque libera allora se una persona ha un grado di fede e di capacità attuale di dire al Signore io credo che quando dico un padre nostro sto pregando per tutti e che avvengano per tutti le cose migliori di tutti d'accordo bene ricordarsi di un'amica ecco affidare una persona al Signore è comunque un'opera di misericordia è comunque un'opera di carità fratelli sono tantissime persone che mi chiedono di pregare per loro io evidentemente non me le posso ricordare tutte quante intanto dico abbiate capite non ce la fare mai insomma allora io dico al Signore quando prego per loro quando faccio un Ave Maria per loro o quando celebro la Messa ti ricordo tutti quanti i miei figli spirituali tutti quanti i miei followers che li chiamo così insomma perché non so tutte le persone che si affidano le mie preghiere perché più di questo non posso cioè il Signore certamente guarda che ci sto mettendo l'intenzione d'accordo perché pregare Dio per i vivi e per i morti è un'opera di misericordia spirituale d'accordo quindi mettere questa intenzione certamente non è niente di di negativo insomma certo quando mi cominciano a chiedere prega che trovo lavoro prega che mi carisce mia figlia prega che mi dice quest'altra cioè io su questo insomma dico prego secondo le intenzioni della Madonna d'accordo preferisco fare cioè perché noi non possiamo sapere ovviamente come si tratta se tu mi dici prega al Signore che diventi santo ah questo 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 fa subito perché che diventi santo è la prima intenzione è la prima cosa che chiediamo a Dio al Padre nostro d'accordo quindi per quanto riguarda tutte le altre cose nel chiedere dacci oggi il nostro pane quotidiano noi chiediamo al Signore che ci dia quello che è necessario in questa vita temporale d'accordo però può darsi che il Signore magari voglia che su un certo periodo vivia un pochino in precarietà quindi magari che per un certo periodo vivia disoccupato cioè per te è un incubo d'accordo ma se questo fa bene alla tua vita se questo fa bene al tuo abbandono la crescita nella fede al distacco dai soldi che ne possiamo sapere il nostro Signore questo lo potrebbe disporre come cosa positiva per te quindi chiedere pretendendo che subito sia tolta questa cosa che trovi lavoro potrebbe non essere la cosa migliore spero che riesco a farmi capire insomma no ecco perché nelle cose temporali noi non possiamo sapere dove si trova la volontà di Dio con certezza Maria Maria la flama ric allora e per questi atti nella divina volontà che sono temporali nel piano di Dio la Chiesa non potrà mai essere distrutta in virtù della moltiplicazione degli atti sul piano divino allora carissima la Chiesa non potrà mai essere distrutta in ogni caso d'accordo la Chiesa è indistruttibile perché la Chiesa c'è una promessa di nostro Signore le porte degli inferi non preparranno contro di essa ciò nonostante non possiamo stare molto tranquilli perché il diavolo la vuole distruggere e fa il possibile per distruggerla e se anche non riesce a distruggerla combina però un sacco di guai in ogni tempo e in ogni età della Chiesa quindi certamente la guardia contro il diavolo dovrebbe essere altissima e da tenere da parte di tutti ah certamente se tutti quanti vivessimo nella divina volontà il diavolo tornerebbe all'inferno non avrebbe nessuna possibilità di scalfirci il problema è che quindi noi dobbiamo avere sempre una grandissima fiducia nel senso che la Chiesa non potrà essere distrutta però dobbiamo avere una grandissima vigilanza un grandissimo spirito di combattimento la battaglia della fede ne parla San Paolo la vita cristiana come milizia è un concetto che è stato sempre presente nella vita della Chiesa perché noi stiamo combattendo contro dei nemici terrificanti potenti non più potenti di nostro Signore ma comunque più potenti di noi e agguerriti decisi d'accordo con un odio infinito con una volontà perversa e implacabile d'accordo irreversibile e so tanti poi sono miliardi diavoli quindi non è che sono soltanto uno quindi ci vuole sempre questo equilibrio Rosalba dal momento della mia conversione venti anni fa ho iniziato un dialogo continuo con Gesù ora ho conosciuto la divina volontà e l'amo perché sto trovando tante risposte devo fare gli atti di fusione allora Rosalba devo allora nella in ciò che Gesù spiega diciamo così e insegna sulla divina volontà sono previsti anche questi atti particolari che sono gli atti di fusione d'accordo che sono delle modalità particolari con cui si entra e si cerca di fondersi con la divina volontà per vivere sempre più e sempre meglio in essa quindi sempre detto che il devo il devo in questo mondo diciamo così ecco mano mano che ci si familiarizza se Gesù negli scritti parla delle fusioni e raccomanda le fusioni che facciamo se vogliamo entrare bene in questo mondo non si tratta di devo si tratta semplicemente di mettersi in ascolto e di accogliere un'indicazione e una rivelazione una prospettiva che viene dal signore non è una cosa adesso lo devo fare per forza con calma se è una cosa che ancora non matura bene e maturerà bene insomma no? mari.grazia77 i momenti di nervosismo corrispondono dell'uscita della divina volontà sicuramentissima mente sì perché ogni volta che noi ci nervosiamo quelli sono atti purissimi di volontà umana perché poi ci nervosiamo quando la nostra umana volontà viene contrariata d'accordo? e il non innervosirsi è proprio il fatto che in quel momento io sto unendomi con la divina volontà che mi sta pungolando che mi sta chiedendo una prova che mi sta appunto come dire uccidendo l'umana volontà e se io me lo faccio fare non mi innervosisco se mi innervosisco come umano che sia non me lo sto facendo fare no? fare la divina volontà chiede ancora Fie 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 e dunque rendersi a ciò che è un'arresa interiore al momento presente a fare la divina volontà è anche questo d'accordo? fare la divina volontà è un concetto molto molto ampio fare la divina volontà vuol dire osservare dieci comandamenti fare la divina volontà vuol dire osservare i doveri del nostro Stato fare la divina volontà vuol dire istante dopo istante discernere quello che Dio mi mette davanti e cercare di farlo al meglio possibile quando in qualche cosa la nostra volontà non c'entra e non abbiamo il potere di sottrarsi a questo lì sicuramente si tratta di fare un passo indietro una rassegnazione una resa come lo puoi chiamare e fare la divina volontà per esempio torniamo al coronavirus cioè io in questi mesi posso come dire averli santificati quindi tutto questo tempo che sono stato a casa che ho fatto dalla mattina alla sera sono stato a dire che schizzo un po' posso usci posso andare a fare cose quindi televisione a tutto spiano perdere di tempo a tutto spiano o cogliamo la chance di questo tempo organizzo bene il tempo santifico bene il tempo approfitto per fare tante cose buone ed edificanti capito cioè dobbiamo entrare un pochino in queste perché sicuro a casa c'è dove sta d'accordo quindi numero uno come reagisco a questa cosa sbraitando sbuffando mormorando come si dice brontolando oppure stavo a casa basta cosa mi mette dinanzi il signore in questa cosa qui che facciamo in questo tempo d'accordo bisogna acquisire piano piano cioè il mondo della divina volontà è bello anche perché cioè stimola come dire chi ci vuole entrare a diventare arguto acuto intelligente d'accordo a interfacciarsi con la divina volontà d'accordo ecco Anna Pandolfi quando pensi e pensi ad altro e poi ti accorgi non sto pensando a Gesù e poi ti fondi eccetera non è molto chiaro quello è chiaro che noi non possiamo Anna stare sempre con il pensiero lo dice anche Gesù no non possiamo stare sempre ininterrottamente in questo mondo sto pensando a pensare a pensare a Gesù attualmente è chiaro che più ci pensiamo è meglio io in questo momento sto leggendo le domande sto cercando di capire quello che mi chiedete elaborando le risposte cioè non ho la possibilità in questo momento mentre sto parlando in contemporanea di dire Gesù ti amo quella tua volontà mi fondo in te mi perdo in te bacio le tue piaghe non lo posso fare adesso no ecco quindi abbiamo dei momenti in cui si fa e poi per il resto si cerca di fare quello che Dio vuole ho sedici secondi dobbiamo chiudere perché se non Instagram ci tappa la bocca meno male che siamo riusciti a farla alla prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria